Ricchetti, siccome te sei quello critico, come sono questi dati ai Jobs Act? Stavolta devo dire che poiché va di moda raccontare che i bonus non sono serviti, il Jobs Act non serve a nulla, gli 80 euro è una misura elettorale, ce lo dice l'Ist pochi minuti fa. Cioè? Disoccupazione giovanile che si attesta meno 10 punti da quando è cominciata l'esperienza. 44-34. 44-34, quasi 800.000 occupati che prima non esistevano, cambiano la storia delle persone. Un reddito che non c'era e oggi c'è. E' il provvedimento del Jobs Act che sedimenta una ripresa che ormai ci porta alla situazione 8 anni precedenti alla situazione attuale. Non dico pre-crisi ma siamo in pieno recupero. L'economia si rimette in moto così e guai a fermare quel tipo di provvedimento, guai a demonizzare bonus, provvedimenti, incentivi alle imprese, perché il lavoro va creato. L'ha detto Ricchetti, per cui ci possono credere. Il Jobs Act funziona. Ciao a tutti.